Abbiamo detto tutto Abbiamo detto tutto Sì Poi insomma diciamo che io non è che abbia chissà quali segreti Quindi no, è stata una bellissima chiacchierata però Grazie mille Grazie a te Ciccia Grazie a voi Ho deciso di fare un podcast perché sento l'esigenza di confrontarmi con persone speciali Per far emergere quelle verità che spesso non ci diciamo per paura di mettere tutto in discussione Non lo faccio per moda ma perché penso che l'isaggio generazionale riguardi tutti quanti noi Io sono Giulia Salemi e questo è Non lo faccio per moda Oggi sono felice di avere qui con me una numero uno Che sicuramente conosce molto bene la nostra generazione Abbiamo tante cose in comune Lo stesso nome Gli stessi colori Lo stesso lavoro Lo stesso programma televisivo E la stessa passione Diamo il benvenuto a Non lo faccio per moda A Giulia Delelli Ciao Mi vedo già? Sì sì Ok non l'ho capito Siamo sempre riprese Ah ok ciao Ciao Giulia Grazie per l'invito innanzitutto Possiamo ufficialmente dire che una cosa che non abbiamo in comune è il fidanzato Sì questo possiamo dire Come poi è un po' anche il nostro lavoro Come un po' quello che mi vedete fare Sempre tante cose diverse Mi piace cambiare Mi piace scoprire E credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare Probabilmente ne valga veramente la pena Che altrimenti non si spiega Certo Che poi io sono una innamorata dell'amore Mi hai fatto morire quando hai detto Le mie relazioni durano meno del correttore Che poi per carità Cioè l'ultima è durata quattro anni Insomma Pochissimo i correttori ragazzi Durano molto meno Dopo quattro anni si buttano Si devono buttare E no vabbè Gioco spesso Insomma sai io sono una molto ironica Però Sì Non ho trovato secondo me quella persona per cui vale realmente la pena fare determinate rinunce Per tanto tempo perlomeno Poi ci provo sempre perché io ti ripeto sono una innamoratissima dell'amore Mi butto ci credo Nonostante tante Un'entusiasta poi soprattutto Sì sempre 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 Non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche che mi è capitato insomma di vivere Infatti io ti volevo chiedere perché l'intro del mio podcast è Ciao ho 31 anni e sono in tilt perché A sono in ansia perché non ho 31 E B perché mi sono usciti tutti dei disagi generazionali non risolti Poi secondo me anche con il nostro lavoro che ci siamo cercate L'esposizione è una cosa bellissima che abbiamo voluto Ma allo stesso tempo è tutto amplificato quindi volevo proprio sapere in che fase sei tu della tua vita Costantemente Non confusa però io mi faccio tantissime domande Quindi probabilmente credo che anche il tuo essere un po' in tilt sia Ti senti anche tu un po' in tilt Dato dal fatto che ti fai tante domande Ecco che però è una cosa che a me piace Cioè fa parte del mio carattere Sono estremamente curiosa alla ricerca come poi il concetto che ti raccontavo prima Non è che mi sento in tilt Mi sento che ancora ho tante cose da fare Tante cose da scoprire Tante persone da conoscere E questa cosa mi motiva tantissimo Mi fa sentire molto viva Però a volte mi confonde Però non mi sembri una in ansia Cioè quello che ho sempre Che percepisco di te È che hai sempre tutto sotto controllo Molto Diciamo che sono Sì soprattutto a livello lavorativo anche Un po' maniaca del controllo E sono anche un'ansiosa Però l'ansia come tante altre emozioni mi piace Cioè mi fa sentire viva E poi io sono una di quelle che non la Cerca di combattere Non la vedi come una cosa negativa Ecco diciamo che Come tutte le emozioni mi piace attraversarle Le attraverso completamente La vivo E quindi anche l'ansia Cioè la prendo come Non guardo solo la cosa brutta Ne prendo anche il buono Perché ti senti in tilt tu in ansia? Che c'hai? Eh secondo me è proprio la fase Lo stallo Perché tu puoi superi 30 E quindi dici Caspita Ora si aggiungono altre nuove responsabilità E soprattutto magari aspettative sociali Sento che sto crescendo Sento che mi sto responsabilizzando molto Però allo stesso tempo Non voglio far scappare Quella mia parte Più ragazzina Perché secondo me Io te in questo Anche ci accomuna molto Siamo un po' cresciute A pane e cenerentola Sì mia sorella Lo dice sempre Siamo delle eterne sognatrici Siamo due ragazze Secondo me anche molto entusiaste della vita Anche se Allo stesso tempo Realiste Secondo me una delle prime cose Che è stato lo schianto Che ci ha fatto capire Che poi la vita non è una favola È la separazione dei nostri genitori Perché io avevo 15 anni Tu ne avevi 13 Io ne avevo 13 Però poi i miei sono tornati insieme Si sono riseparati Quando eravamo tutti molto più grandi E volevo sapere Questa cosa secondo te Ha avuto un impatto poi In quello che sono state Le tue relazioni Cioè chi ha segnato Chi ha riportato un attimo Catapultata sul mondo degli adulti Sì probabilmente sì Ma io credo che in generale Non ci sia Non esiste in assoluto Ruolo più complicato Mestiere più complesso Di quello di fare il genitore di base Perché segna inevitabilmente Ogni aspetto della vita Certo Dei figli E sono siamo Poi alla fine Quello che è stata quella fase lì Quella prima fase lì E certo che sono stata segnata Però anche in questo caso Non ho mai vissuto Questi step Queste fasi della vita Dei miei genitori In maniera Così sofferente Sono stati forse bravi Loro a non Non sono stati bravi Cioè ti hanno messo in mezzo E che poi alla fine Come fanno fanno Sti poveri genitori Sbagliano Questa è la dura verità Per questo è molto difficile Fare il genitore E non lo so Se sono stati bravissimi Ovviamente qualche errore Lo hanno commesso anche loro Ma sfido chiunque Qualsiasi tipo di genitore Per questo dico che alla fine Come fanno fanno Cioè potevano fare di meglio Boh sì forse sempre Però indipendentemente da questo Sono stata io Poi sono molto fortunata Perché ho due fratelli Una sorella più grande Un fratello più piccolo Con i quali sei anche molto legato Siamo super legati Non è detto eh Non è scontato No 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 Noi siamo proprio Cioè mio fratello è il mio miglior amico Mia sorella è la mia migliore amica Che mi ha fatto anche In alcune fasi della mia vita Da mamma Perché lei è molto più grande di me Ha quasi 40 anni Si porta molto bene Però è molto più grande di me Quindi abbiamo questo legame Meraviglioso Magico Speciale Unico Tu sei molto legata alla famiglia Questo è proprio quello che io Percepisco guardandoti E credo che sia stata poi Questa forse la forza Di vivere alcuni traumi Perché poi sono dei veri e propri traumi In maniera sana Quindi non mi sono mai fatta Modificare da queste cose Il fallimento Se così possiamo chiamarlo Perché poi non è un fallimento Però la rottura familiare Che abbiamo vissuto In un certo senso Sì mi ha toccata Ma in maniera sana Cioè io ho capito Grazie anche a questo Ciò che non voglio dare O che non voglio in assoluto Per la mia famiglia Per il mio futuro Certo E che cos'è? Beh sicuramente vorrei un matrimonio Vorrei sposarmi con una persona Con la quale crescere i miei figli E invecchiarci insieme Questo è un po' il mio obiettivo E poi so che è complicatissimo Devi individuare questa persona Quindi Eh sì È una scelta molto difficile È la famosa persona Per la quale dicevi Sono disposta a fare delle rinunce Sì Infatti c'ho una pura tremenda Prima o poi mi lascerà No Tu hai lasciato Tutti i tuoi ragazzi Ma scusa Ma spiegaci Una cosa brutta No perché io sono una Che purtroppo ho sofferto in amore No Qual è il segreto di GDL Attenzione Lo so che hai sofferto Che poi si soffre di più A lasciare O ad essere lasciati Eh dicelo tu No io ho sofferto da morire A lasciare Sai sempre quello che lasci Ma non sai quello che trovi Forse si soffre di più Ad essere lasciati Sì no Ho detto una cavolata Non lo so Però non lo so Il processo mentale Con il quale tu capisci Dici tac Non c'è più l'amore Come si capisce? È molto lento Dura molto tempo Ci sono tanti pensieri I famosi pensieri Un po' segreti Che ti fai in maniera Cioè all'inizio Non lo dici subito Perlomeno nel mio caso Io non mi sono mai svegliata La mattina e ho detto Basta lo mollo Ovvio In alcune situazioni È stato un po' inevitabile Però in altre La maggior parte delle volte Era sempre molto pensato Era sempre molto Analizzavo sempre tutto tanto Io sono una che pensa molto Come ti dicevo Che mi faccio molte domande Magari Ma ti è mai capitato Mentre stavi con uno di Non so Capire Che non eri più innamorata Perché magari provavi di nuovo Emozioni verso Il sesso maschile Quelle farfalline Allo Sì più che emozioni Io quando sono innamorata Cioè non ho occhi Per nessuno Da morire Tu comunque se il film Se scappi ti sposo Da morire Sei tu Perché Qual è Ti ci vedo sempre A scappare dall'altare Ah oddio mio Il mio incubo No ecco Io devo arrivare Il giorno del mio matrimonio Che proprio Cioè quando sto per fare la navata Lo guardo E devo essere assolutamente Io sono in grado di scappare Io lo posso tranquillamente Ma io lo farei Cioè lo potrei fare tranquillamente Una cosa che tra l'altro Mia mamma stava per fare Quando era piccola E quindi è il DNA Sì sì È una cosa di famiglia Noi siamo molto colorati In famiglia Sotto questo punto di vista No però Oddio mi piacerebbe arrivare Lì quel giorno Veramente E se ci arrivo Ci arrivo perché Veramente sono umida Se no non ci arrivo E con alcune persone Ero proprio lì lì Ceri quasi Quindi se non ci sono arrivate È proprio perché Non ci credevo Infatti io ti vedo Che in questo momento Sei catapultata Nel mondo del lavoro Sì Ma per te il lavoro Cioè più Gratificazione personale O talvolta anche magari Scappare dalla realtà Distrarsi Rifugiarsi Per me Tutte queste cose Forse anche Qualcosa in più Allora Parti dal presupposto Che io non ho dipendenze Cioè da nessuna cosa Da nessuna persona Da nessuna Non ho vizi Non ho nulla L'unica dipendenza Che ho Se così possiamo Delirla È il mio lavoro Ma perché mi piace Perché mi fa sentire viva Perché mi dà soddisfazioni Mi distrae E ho un periodo Me lo sei creata da sola Me lo sono creata da sola Non me l'ha regalato nessuno Non l'ho rubato a nessuno Non ho mai fatto male A nessuno Per arrivare Dove sono arrivata Quindi è una cosa Che mi costruisco Di cui mi prendo cura Da talmente tanto tempo Che mi fa sentire bene Che mi fa Che mi fa stare bene Mi fa sentire viva E quindi è una cosa Che mi piace di conseguenza Molto fare Che non è scontato Quindi le famose rinunce Erano più inerenti al lavoro Cioè finché non trovo Magari l'uomo a punto giusto Non voglio rinunce Io per il mio lavoro Faccio tante rinunce Proprio perché Sento che ne vale la pena Proprio perché è qualcosa Che mi piace veramente tanto Ma tipo Cioè quante ore dedichi Al tuo lavoro in una giornata? Cioè io mi sveglio Cioè GDL si alza Dimmi la tua routine Allora GDL è un problema Con la mattina Perché A me piace fare le ore piccole Mi piace stare sveglia Fino alle quattro Cosa fai fino alle quattro? È il lavoro Non mi scuida il telefono Non mi chiama nessuno È la mia parte creativa È il mio momento Dove mi metto lì A pensare A fare le ricerche A fare tutte le cosine mie Insomma che mi piace fare E quindi ho un problema La mattina Molto grave Cioè tipo Io la mattina soffro molto Perché vado a dormire Molto tardi Poi se devo svegliarmi Se ho qualcosa di Insomma molto importante da fare Ovvio che lo faccio Però ho la possibilità Di gestire i miei orari Come voglio A parte In un'occasione Particolari Quindi diciamo Che io mi sveglio Verso le nove e mezza Ok Nove e mezza Io proprio prendo il caffè Sto facendo colazione Guai se non faccio colazione E parte la mia giornata Ok Torno a casa Ci sono i momenti Dove io pranzo e ceno Dove non voglio parlare di lavoro Nessuno mi deve parlare di lavoro Divento pazza Quindi sei brava a staccare No dobbiamo Bisogna staccare Perché altrimenti Diventiamo pazze Sì Negli ultimi tre quattro anni Ho imparato a staccare Anche il sabato e la domenica Perché io prima lavoravo Pure di sabato E pure di domenica Una macchina da guerra Però ha ottenuto grandi risultati C'è da dire Sì però mi stavo ammalando Giulia Eh lo so Perché poi Per questo Te l'ho definito un po' Questo lavoro come una dipendenza Mi piace talmente tanto Ci sono talmente tante cose da fare Quasi sempre sono diverse Non lo so Mi appassiona così tanto Che a un certo punto Della mia vita Non riuscivo più a staccare Questa cosa stava diventando insana Cioè io staccavo Solo quando prendevo Un treno Un aereo Andavo a Roma Dalla mia famiglia A volte rinunciavo Ai compiani Tu quindi riesci a non guardare il telefono? Madonna certo Se facciamo un gioco E mettiamo i telefoni qui Sono quella che lo usa di meno A parte in questo periodo Perché sto lavorando Un progetto nuovo Però di base io A volte sono anche un po' Cazzata Mi dicono Giulia Però ti stai dimenticando Tutto il giorno che sei sparita Le persone si chiedono sempre Ci tengono sempre Quindi sei una che un po' gosta Oddio da morire Da morire Quindi non offendetevi Perché non lo guardano Ma lo sanno tutti Cioè tutti sanno Che devono chiamarmi Almeno un paio di volte Se è veramente importante Allora Mi mandi un messaggio Io Non è Quasi mai ti rispondo Perché tu esatto Non so se lo sanno Fai anche consulenza Cioè oltre a essere Tu la tua azienda E oltre ad aver creato un'azienda Fai anche consulenza Io ho il mio brand Odrer Odrer Che adesso ne parliamo Esatto Poi ovviamente Sono una beauty influencer Faccio un po' il lavoro Insomma il nostro lavoro Lo conosci bene Non te lo devo spiegare E poi mi diverto A fare delle consulenze Per dei brand Che hanno lavorato con me O che mi conoscono Insomma per il mio lavoro Su come strutturare Le loro campagne Le loro comunicazioni Le loro nuovi prodotti Che magari vogliono far uscire E così via Quindi ci sono dei momenti In cui io mi chiudo in ufficio Dalla mattina fino alla sera E mi dimentico Di condividere il mio quotidiano Oppure sono impegnata su altro Ma lo trovo sanno Lo trovo anche giusto Poi le persone mi seguono A talmente tanto tempo Che lo sanno Che io ogni tanto sparisco Ai tuoi momenti E recentemente Proprio per i tuoi grandi traguari Sei stata invitata alla Bocconi Innanzitutto complimenti Grazie Per parlare della tua case history Sì Per spiegare in cosa consiste Questo lavoro E per parlare del tuo brand Allora ecco qua Infatti siamo morti da ridere C'è stato un po' di confusione Perché Ecco io ho visto notizie ovunque Spiegaci Ovunque Allora siamo stati chiamati Da Stabocconi Da Stabocconi Ero scioccata Cioè ero sconvolta Non te l'aspettavi No 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 Per Per testimoniare Quello che è il mio brand Che è una start up Sì sì Che ho autofinanziato Che ho fatto dal nulla Completamente da sola Con il mio team E per raccontare Come comunichiamo Noi siamo una realtà Che vende in maniera diretta Al consumatore Quindi non ci appoggiamo A retail A nulla E sono stati incuriositi Dal nostro modo di comunicare Insomma per una serie di Di step Di progetti Fatti con Odrer Siamo stati chiamati A testimoniare Non siamo ancora diventati Un Che è stati Di Bocconi Però insomma Ci stiamo lavorando Ma sei riuscita a spiegargli In cosa consiste Questo lavoro E che è un lavoro A tutti gli effetti Non sono andata Ecco questa è una cosa importante A raccontare Del mio mestiere Come beauty influencer Perché alcuni giornali Alcuni titoli Riportavano questa cosa A noi non sono andata Andate a Bocconi A raccontare Come si diventa influencer Come faccio il mio lavoro A livello proprio di comunicazione Come Giulia Delellis Sono andata lì A raccontare Tutta la struttura E tutta la storia Del mio brand Principalmente E è aperto da Un anno Il 22 aprile Sì da un annetto È aperto da un anno Da pochissimo Da pochissimo Certo per questo Era un po' sconvolta Insomma di andare lì E raccontare Questa testimonianza Non sono andata Di insegnare nulla A nessuno Anche perché io devo Imparare ancora talmente Tante cose Che ecco se ci penso Mi viene l'ansia Ti dà fastidio Quando leggi queste notizie Magari i titoli Comunque strappa Like Strappa commento Magari anche a volte Cattivo Cioè tu li leggi Ti feriscono O non ti toccano più Allora La verità A volte è mortificante Essere Sminuita O che non mi vengano Riconosciute Determinate cose Che ti ripeto Sempre da sola Senza rubare niente A nessuno E senza fare del male A nessuno Mi sono costruita Cose per cui Ho studiato Ho lavorato intensamente Mi sono informata E un po' Sì È un po' Svilente Però dall'altra parte Scusate Si dice svilente? Svilente Ok Sì Però dall'altra parte Ti dico la verità A me non hanno mai toccato Particolarmente Questi commenti Ci può stare Comprendo che Apprezzare Il successo I traguardi importanti Il lavoro Delle altre persone Non sia facile Per tutti Perché A me fa strano Nella mia famiglia Determinati valori Non ce ne hanno mai passati Però in alcuni casi Per alcune persone Valori come l'invidia Per esempio Esistono Ne sono consapevole Lo accetto E non me ne curo molto Diciamo così Brava Sì Questo secondo me È un grande gol Ce ne sono stati tanti Per esempio Bellissimi Che mi riempiono di gioia Ma guarda che Alla critica Se costruttiva A me piace anche Condivido Cioè mi piace Mettermi lì Uno scambio Se mi dà qualcosa Se è un profilo fake Che ti insulta Manetta Ma no ma che me ne frega Ma che me ne frega Se escono articoli Sciocchi Con titoli poveri Non gli do importanza Ci sono degli articoli Un po' più duri Con dei titoli Un po' più importanti Che invece mi fanno riflettere Che mi fa piacere Anche leggere Insomma cercare di capire E ti stimolano magari A migliorarti Stimolano certo C'è un regista Come faccio a spiegare A mia moglie Che se guardo fuori dalla finestra È perché sto lavorando Come facciamo noi A spiegare Che se stiamo Un'ora al telefono A mandare mail Messaggi A postare A rispondere Con dei vocali Stiamo lavorando Perché non è visto Come un lavoro Dopo dieci anni Perché non sanno Quello che c'è dietro Essendo un lavoro Secondo me molto moderno Li capisco da una parte Non li giudico Ci sta che comprendere Un lavoro del genere Sia un po' complicato Complesso Io non lo so Mia nonna Quando mi sono messa A spiegargli Con gli anni Con il tempo Che lavoro realmente Io facessi Cioè la vedevo Che era un po' confusa Poi ho detto No È un lavoro Che esiste da sempre Io lo faccio Sul telefono Lo faccio in questa vetrina Gigante Immensa Che è quella digitale Ma è un lavoro Che esiste da tempo Da sempre Cioè era la commessa Della bottega Dove andavi tu Che magari era quella Che ne sapeva Su Non lo so Ti dava tips Consigli Su come truccarti Come vestirti meglio O ti consigliava Un posto Da andare a vedere O ti raccontava Il suo libro preferito Lo faceva a modo suo Quel modo Ti incuriosiva E tu tutti i giorni Tornavi nella sua bottega Ecco Questo è un po' come Il mio telefono È la mia bottega Però il digitale Non è visto come Cioè uno non va Alla bottega A insultare la tipa Ah cretina Stupida Non la facente Questo è il problema Negli ultimi anni Anche in questo caso C'è stato questo Grande problema Dove tutti hanno il diritto Pensano di avere il diritto Di venire davanti Questa vetrina E tirarcela qualunque C'è da dire Che magari Pure ai tempi Dei nostri nonni Qualche commessa Di qualche bottecuccia Veniva insomma Presa un po' in giro Insultata Non lo so Non lo so Ma che ce ne frega Di base Che ce ne frega Ma tu pensi Che migliorerà Un pochino questa cosa Cioè prima o poi Cambierà il percepito Io sento Che sia già Migliorata questa cosa Sì Mi sembra ridicolo Che dopo dieci anni Che esiste questo lavoro Ci dobbiamo mettere ancora A spiegare O a raccontare No Poi si dice anche Che non c'è peggior sordo Di chi non vuole sentire Quindi insomma Voglio dire Dopo tutto questo tempo Dobbiamo ancora spiegarlo Pensa che io invece La vedo più drastica In quest'ultimo periodo Specifico No dai Giulia Dai con anche Gli ultimi fatti successi Questo lavoro A tutti gli effetti Comunque vuoi non vuoi Sì però lo vedono Come un lavoro ad oggi Per lo meno Per quanto mi riguarda Io credo che Poi quello che c'è dietro Ancora non si è capito bene Ancora tante persone Non l'hanno capito bene Però insomma Chi è del settore Chi lavora nel mondo Di comunicazione L'ha capito Io ho letto una cosa Sempre tua bella Che mi ha colpito Che hai detto Che inizialmente Con il primo pacchetto Di posti Sentivi quasi In imbarazzo In difficoltà Perché guadagnavi Quanto Uno stipendio intero Se non di più Quindi Mi incuriosisce sapere Che rapporto Hai tu Col denaro Nel senso che Sei sicuramente Responsabile Perché parte Dei tuoi risparmi Li hai investiti Nel tuo brand Che è autofinanziato Io ho letto in giro Dimmi tu Se corretto o no È sui mezzo milione Sì Poco È un investimento Veramente importante Cioè vuol dire Che sei estremamente Sì Fatti un'ansia avevo Trutturata E sicura Cioè dove hai trovato Questa E poi il brand È nel mercato Da un anno Ma in realtà Noi ci lavoriamo Da cinque anni Quindi Tu lavori cinque anni Tipo a gratis Diciamo Sì Completamente In perdita Certo Come mai è stata Questa mi incuriosisce molto La scelta di fare Il tuo brand E non licenza Quindi è una scelta Molto coraggio Perché moltissime Fanno la licenza Ovvero Arriva l'azienda Dice Io pago tutto E ti do il 15% Di royalties Per capirci Sì No volevo fare qualcosa Di mio Giulia Volevo A parte che Mettere in generale A livello di prodotto Qualcosa nel commercio Che mi appartenesse Realmente Formulato da me Da un team ovviamente Di esperti Che fanno parte Del mio team Però non volevo dare Alle persone Che mi seguono Al consumatore Tra virgolette Qualcosa di già esistente Quindi volevo fare Sicuramente qualcosa Di più unico E poi perché Me la volevo proprio sudare La volevo proprio vivere Ho fatto tantissime collaborazioni Ne continuo a fare Ancora molte Con brand di beauty In generale Non ti ha creato Un problema Con i brand Tipo di skin care Specificatamente? No Ti dico la verità Perché io A livello commerciale Non ho mai dato Un'esclusiva Nel mondo del beauty Lo do a 360 gradi Su tutto Ma nel mondo Della cosmetica In generale Non l'ho mai data Perché io sono dell'idea Che non esiste Un unico rossetto Che è il più incredibile Del mondo Non esiste Quella crema Che è l'unica E miracolosa Io credo che La mia pelle Innanzitutto va ascoltata Cambia Ha delle esigenze Diverse ogni volta E non ho l'arroganza O non ho mai sposato Nessun brand Che potesse pensare Di fare dei prodotti Unici Da usare solo E sempre Però magari il brand Dice è normale Che lei il suo Lo promuove In maniera più entusiasta Dicendo è il migliore Quindi questa cosa No No Perché non dico Che il mio brand Sia l'unico e il migliore Penso che sia incredibile Che abbia dei prodotti Pazzeschi Ma come tanti brand Con cui collaboro Altrimenti non collaborerei Con loro E se io faccio Un progetto Una collaborazione Con un brand È perché ci credo Veramente tanto In quel prodotto Ci credo tanto Quanto ci credo Nel mio Altrimenti non lo farei A me non succede mai Che mi dicono Giulia ma O le mie amiche Mia sorella Le persone che mi seguono Giulia ma questa è una Di ti piace veramente Cioè loro lo sanno Che sia un progetto Di cui parlo Perché sono stata pagata O un regalo Che mi fanno O una cosa che mi compro Se ne parlo È perché mi piace Quello anche io Io sono molto selettiva Ho detto tantissimi Noi secondo me Quello che fa Lo stacco Nel lungo termine Ed è quello che crea poi Le vere professioniste Io le chiamo comunque Quelle che Non si vendono Solo ai soldi Ma sposano solo brand Nei quali credono Estremamente E quindi In questo senso qua Secondo me Si è creata poi Una selezione naturale Cioè il pubblico Se ne accorge Quando sei sincero Quando un prodotto Lo utilizzi realmente Io Prima di promuovere Testo sempre Prima Assolutamente Provi Vuoi veramente Sapere se quello È un prodotto efficace Soprattutto noi che parliamo Di creme Beauty Sì Cosa che devi metterti sul viso Insomma Poi io con tutti I problemi che ho avuto Acne non acne Certo Tu sei stata oltretutto Una delle prime A parlare anche dell'acne Cioè Non hai avuto vergogna Nel Nel farti vedere Senza filtri No È stata Pensi la tua Ad oggi Arma Il tuo cavallo di battaglia Che ti ha distinto Anche rispetto alle altre Credo Che indipendentemente Dall'argomento In questo caso Quello dell'acne In generale Il fatto che io sia sempre stata Molto sincera Sia stato Un punto a mio favore Se così possiamo definirlo Certo Sono una che divide molto O piaccio O non piaccio Proprio perché sono una Molto sincera È scomoda la sincerità Lo è stato In alcuni casi Però per me Non è che c'era scelta O ero sincera O ero sincera Punto Quindi non Non me la sono mai Neanche chiesta Che faccio Mi metto in una situazione Un po' di difficoltà Dicendo la mia Cioè per me esiste Solo la mia Certo Poi so Perfettamente Che può piacere Essere apprezzata Non essere apprezzata Criticata E così via Però Sono così Capito Beh però appunto Sei una anche in questo Forte Nel senso che le critiche Poi secondo me Ti toccano relativamente Perlomeno è quello Che fai trasparire Secondo te Qual è stata La tua chiave Di successo Cioè che cosa hai tu In più rispetto Alle altre No In più Non lo so Perché poi non è che le conosco tutte O non lo so Anche quelle che conosco Cioè Rispetto all'arroganza Rispetto all'approccio al mercato Non ho quell'arroganza Di dirti che ho qualcosa in più Sicuramente Tornando al discorso di prima Il fatto che io sia sempre stata Molto sincera È stato tanto apprezzato Come è stato tanto anche odiato Certo Però di base è stato qualcosa Che numeri alla mano Come ci stiamo dicendo Parla chiaro Quindi di base Penso parta un pochino da quello Poi che ne so Io lo vorrei chiedere a tutte Quelle 5 milioni di persone e mezzo Che mi seguono Per avere una risposta Sei fiera Sei orgogliosa Certo Una cifra tantissimo Però se ti dovessi dire una cosa Boh Dovremmo chiederlo a loro Sarebbe divertente chiederlo a loro Tu sei partita inizialmente Dalla televisione Possiamo dire che Uomini e donne È stato il tuo sliding door Ovvio Assolutamente Non avevo neanche Instagram A tutti gli effetti Io durante Uomini e donne Ho aperto Instagram Io sapevo Cioè io ero proprio l'antisocial Ho scoperto che tu volevi Esistenziale un po' confusione Dottoressa Delelli S'avrei amato Oddio Quanto adorerei Sì io volevo fare qualcosa Nel mondo Per cui non lo so Tornare a casa la sera e dire Mi sento meglio Ho fatto qualcosa di buono E invece è arrivato Il programma televisivo Oddio no Poi ci ho provato anche A fare il test di medicina Ah ci ho provato E com'è andato? Io ho studiato moda E sei mesi O otto mesi prima Cioè insomma Quando aveva appena iniziato Il quinto superiore Lascio questa scuola Cambi Perché appunto cambi idea Faci il momento Impazzita Proprio sai la classica Crise esistenziale Che una ragazza Che comunque O un ragazzo Tendono a farsi tante domande In un'età particolare Prende no Non so se ce l'hai avuta Se ti è capitata A me tante persone Tante mie amiche Insomma L'abbiamo vissuta E in quella fase lì Io avevo questa crisi Avevo questo bisogno Assoluto di capire Che cosa farò da grande Lo dovevo capire In quel momento Cioè pazza Capito Perché avevo 19 anni E quindi ero indecisa Se continuare nel mondo della moda O se provare Insomma questo campo Un po' meraviglioso Straordinario Di supereroi Anche quasi alieni Perché è difficilissimo Cioè veramente ci vuole coraggio A studiare Tutta No poi non era per me Il percorso di studi Ci ho provato Mi sarebbe tanto piaciuto Ma non era proprio per me E poi so che mi l'hai raccontato La scorsa estate Che la tua amica Ti ha iscritto A uomini e donne E da lì No poi ho detto Sono confusa Non so cosa fare E mi prendo Un momento Un anno sabatico Così vado a vivere a Londra Ok Vado a vivere a Londra Quindi trovo casa Trovo lavoro Dico imparerò meglio la lingua Sì mi serve Dai ce la posso fare Hai fatto l'estetista Nel corso di questo tempo No io lavoravo In un negozio di abbigliamento Negozio di abbigliamento La mia migliore amica Faceva l'estetista Che ha un centro estetico Ti hai iscritto Sì Alice Sì Che ho conosciuto Ed è stata forte Esatto È vero Da lì insomma Sono nate tante cose Ma io di fare tutto Sì è stato stupendo Da lì c'è stato proprio La mia vita è stata stravolta Beh insomma Da che ero un po' confusa Vado a Londra Studio moda Studio quest'altro A che la settimana Di saluti Sanno prima di partire Si fanno sti cenoni Dove salutano Le amiche Gli amici eccetera E in una di quelle cene lì Poi che è apparso Questo video di presentazione Dove questo ragazzo Parlava di questa Giulietta Fatta in un determinato modo Insomma Che la descriveva pure E che sembrava proprio Parlare di me Sembravo proprio essere io Certo E niente Poi da lì insomma Lo sapete Tutto il resto è storia Sì Da Mellis Allora devi sapere Che nella mia home Sì Perché vi siete lasciati Quasi contemporaneamente Sì 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 Proprio pochi Sì Io ho letto Da Mellis E noi siamo solidi ad andare un po' Da Mellis Beck Ma per la speranza del vostro fandom Cioè Certi amori fanno giri immensi E poi ritornano Oppure No Venditti no Sì La festa s'accabò Ma pensa tu che Simona L'ex moglie di Venditti Vive nel mondo Ascoltando ancora oggi Queste canzoni Che lui gli ha scritto Come fa a vivere? Veramente E quindi Cosa? No ragazzi Non c'è un quindi Cioè Ci sono un sacco di cose straordinarie Però che ci aspettano C'è la storia C'è un bel ricordo No come c'è la storia? No No c'è la storia Ah sì 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 C'è il ricordo di una storia bellissima C'è questa persona nella mia vita E ci sarà per sempre Poi sei brava perché hai mantenuto Buoni rapporti comunque Sì Molto travagliati Molto divertenti Molto Hai scritto anche un libro Un libro incredibile Per cui mi ha adorata In quella fase lì Soprattutto Mi ha adorata No ero in onica ovvio Mi ha odiata Ma ci siamo straodiati Ma ci siamo anche tanto amati No non mi sono vendicata L'ho fatto per me Infatti La prima cosa che trovi scritta nel mio libro è L'ho fatta pensandoti Ma l'ho fatto per me Cioè io l'ho fatto per me Non era una vendetta Era proprio uno sfogo E tu non sai quanto mi ha aiutato Giulia quel libro Ti ha liberata Ma tu hai mai tradito? Io? Incredibile Sì o no? Certo No Ho anche tradito poi Cioè io che ho fatto tutta la cosa Hai tradito Beh amo la sincerità Sì mi è capitato Anche perché poi tu hai detto Che non sai mentire Però aspetta Aspetta Perché poi non ho tradito Aspetta Ci sono varie In una frequentazione Dove non c'è un'esclusività Non mi sono fatta problemi Ad uscire con un altro ragazzo Però io di natura Sono una Che solitamente Tende ad essere molto esclusiva Anche se io e te ci frequentiamo Non ci diciamo nulla Per me stiamo insieme Capito? Il fatto di vedermi Con un'altra persona A me già Mi dà quella sensazione Lì sono molto severa Sul tradimento Io se sono innamorata Non tradisco Quindi no Non tradisco Però se mi sto frequentando Con una persona Non è una cosa molto importante Nonostante per me Se usciamo insieme Ci deve essere Quelle esclusività Mi è capitato In delle fasi della mia vita Di vedermi anche Con altri ragazzi Senza farlo presente Ho omesso Ecco non ho tradito Ho omesso Però allo stesso tempo Sei una anche molto sincera Io so Odi dire le bugie Odio Non riesci a trattenere Mi impazzisco Dimmi una bugia Che appunto non hai detto Quindi una verità Che hai dovuto dire Che ti è costata cara Una verità Che ho dovuto dire Che mi è costata cara Magari di cui si sei ventita Hai detto Mannaggia me Boccaccia mia Stati zitta Bella questa È che ne dico Talmente tante Che non lo so Forse mi succede No quando ero più piccola Mi succedeva molto Molto spesso No ma adesso Non c'è una verità Di cui mi sono ventita Io ti dico una cosa Perché te la voglio dire Perché devo ventirmi Non ti è mai successo qualcosa Che poi sono nate situazioni Drammatiche Che hai detto Mannaggia me Me ne stavo zitta Che a me è successo Mille volte Te lo dico per questo No mi è successo Oddio Oddio Faccio un sacco di pasticci Mi sbaglio Ultimamente Con gli amici stretti Sai che su Instagram C'ha questa funzione malefica Maledetta che andrebbe abolita Che però A me diverte troppo Io ho questa cerchia Piccolissimissima Di sorelle Proprio le mie sorelle Le mie migliori amiche Con cui ogni tanto Mi diverto a condividere Questi amici stretti E ogni tanto Soprattutto la mattina Perché ti ho detto Che io faccio fatica A svegliarmi la mattina Molto presto Quelle poche mattine Dove io devo Per forza svegliarmi Prestissimo Mi è successo Tipo due tre volte Una volta in aeroporto Non le sei di mattina Non so che mi ha detto La testa Invece di mettere Una storia Che questa cosa Mi è successa due tre volte In maniera molto importante Negli amici stretti L'ho messa Ho capito quale Forse quale riferimento è Ma due tre volte Vabbè Comunque mi succede spesso Questa cosa Però ecco Non è una verità Non detta Cioè è una cosa Che io non sono Una persona giudicante A me non me ne frega niente Però ovviamente Con le amiche Le cose si raccontano Si dicono cose che E là Mi è partito il ditino Però di tua parte No Non c'è una reale verità Di cui mi sono pentita E a proposito Di questa Di questo caso Mi fai sbocciare in mente Appunto Ovviamente Un nome Siamo Giulia Giulia Dobbiamo trattarlo Questo argomento In un qualche modo Cioè voglio proprio sapere La tua opinione sincera Mi stuzzica questo Abbiamo visto tutti Abbiamo visto quello Che è successo Dal caso Ferrani Che io personalmente Continuerò a rispettare lei Perché ha creato Il nostro mestiere Ma secondo te Realmente Cioè Una persona È responsabile Al cento per cento Di un errore Di una leggerezza Ora bisogna capire il dolo No O sono anche Le persone Intorno a lei Ad avere in questo caso Secondo te La responsabilità Quindi tu Giulia Fate un errore Con Odrer Piuttosto che La colpa è tutta tua O anche delle persone Delle quali ti sei fidata Allora Allora Io non posso sapere La gestione Del suo lavoro Non posso sapere Le sue cose L'unica cosa Che posso dire È che quando Si arriva così In alto E quando Si ha così Tanto successo Come si gestiscono In maniera incredibile Campagne Straordinarie Allo stesso modo Bisogna gestire Altrettanto bene Anche le situazioni Quelle un po' Più complicate Lì c'è stata Una gestione Un po' confusionaria Altrimenti Non se ne parlerebbe Ancora e così tanto Parlando del mio caso Che poi io sono una Che commette errori In maniera incredibile E tanti altri Ne farò Probabilmente Posso dirti Che non so Come gestisce lei Il suo team Il suo lavoro Non lo possiamo sapere noi Io posso dirti Che per le mie cose Per le cose del mio brand Magari un po' meno Però per tutto Quello che riguarda Me e la mia persona Non esce qualcosa Se io non l'ho provata Se io non l'ho Letta Se io non l'ho autorizzata Quindi nel mio caso Hai trovato delle persone Di cui ti fidi comunque Di cui mi fido Ma che prima di far Uscire Non lo so Una campagna Prima di firmare Un contratto Passano sempre da me Sempre Cioè c'è sempre un lavoro A quattro mani A sei A dieci O quel che sia Ma dove senza il mio ok Non si esce Quindi se per me qualcosa Non è chiaro Se mi metti in difficoltà Non mi fa sentire a mio agio Quella cosa non esce Magari quando si arriva A determinati livelli Questo controllo Può venire a mancare Io non lo escludo Ma tu pensi che questa cosa Abbia aumentato ancora di più L'odio verso questa categoria La nostra categoria Un po' sì Un po' inevitabilmente sì In maniera irrimediabile No in maniera No 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 Assolutamente no Anzi Poi ovviamente Sta a noi Giulia Cioè nel mio caso Per quanto se ne possa dire O per quanto ne diranno Sono sempre stata Una brava persona Che nonostante i miei errori Ne ho sempre pagato le conseguenze Ho sempre fatto il mio In maniera pulita E cristallina Quindi Se la vogliono vedere Una bella persona Se la vogliono percepire Una buona energia Le persone non sono stupide Non le puoi prendere in giro Quindi le vedono Per questo io non mi preoccupo Più di tanto E confido insomma In periodi migliori Che secondo me arriveranno Come per lei Anche per noi Certo Cioè scusami Come per noi Anche per lei Ma secondo te Altra cosa che mi incuriosisce molto Perché appunto siamo colleghe Ma l'amicizia Tra influencer Esiste Nel senso che tutti da fuori Dicono Pensano che sia un rapporto Tra tutte quante Idilliaco Tutte amore amore Però in realtà Ognuna guarda l'altra Vedi Chi t'ha copiato O se tu magari Prendi ispirazioni O quella mi piace di più Quella mi piace di meno E devo ammettere Che io mi sono un po' analizzato Ho detto Ma tu hai amiche Propriamente Del settore E a malincuore Dico Con dispiacere Purtroppo no Poche vero Sì Cioè secondo te Tu come la vivi invece Il rapporto Ma diciamo che io Sono una che si dà Tantissimo A livello sentimentale Come dicevo prima Che sia in amore Perché sono Innamorata dell'amore Che sia a livello anche Di amicizia Anzi forse per me L'amicizia è ancora più sacra Più sacra Sicuramente dell'amore Sì Quando devo realmente Aprirmi con qualcuna Con qualcuno Faccio fatica Cioè le mie amiche I miei amici Non sono del settore Molto Molto Poche Pochi Cioè l'hai riscontrata Comunque anche tu Però non perché fanno Il mio lavoro Ti dico la verità Cioè tu come le percepisci Io sono una che in generale Indipendentemente Le altre Le colleghe Le percepisci Alcune molto carine Alcune molto false Alcune super stronze Riesci a captarle Sì certo Qua si può dire tutto Altre estremamente gentili Altre molto sole Altre super sofferenti Altre belle Cassute Giuste Però non credo Riesci a captarle A pieno Sì Io sono una che ce l'ha Questa cosa qua Sì 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 Io credo molto nell'energia Credo in poche cose Ma nell'energia ci credo tanto E Io credo che Parlo per me Riscontri solidarietà Tu Sì In alcuni casi sì Con alcune persone sì Però credo che sia indipendente Indipendentemente Questa cosa dal Dal mestiere che faccio Poi non lo so Mi piace credere così Tu pensi che è perché ci sia rivalità No no Vabbè Vuoi non vuoi Un po' di rivalità Sana Cioè Proprio io dico Mi dispiace Perché magari a volte Io mi do invece A differenza tua Io mi do Mi spendo E poi magari Non mi ritorna Quanto io ho dato Magari io pensavo Di aver idealizzato Un rapporto Un'amicizia E invece mi rendo conto Che magari era solo Una cosa di circostanza O magari Forse anche peggio No ma aspetta Anche io mi do molto Non capisco qual è il gap Capito Quindi non riesco a capire Se il problema È perché proprio in generale C'è troppa magari competizione E sbaglio a voler cercare Magari amiche Nel settore No 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 Non sbagli Secondo me Oppure Non lo so Secondo me magari Io alla Martin Andi Che è la mia migliore amica Però parte lei Proprio Che fanno questo lavoro Propriamente E mi dispiace Perché in realtà Mi piacciono E ne stimo tante No però secondo me Tu devi considerare Il fatto giuro Che noi abbiamo Pochissimo tempo libero Quel poco tempo libero Che abbiamo O dormiamo O ci riposiamo Brutte a casa O scene con le maschere O magari Nel tuo caso C'è un fidanzato Vabbè anche nel tuo Fino qualche giorno fa Ma sì Ma magari ce ne sono Una serie Tutto ora Così Adoro una serie Io ti amo Sei sportiva Per dire Capito Cioè nel senso Bisogna dedicarsi Insomma Agli affetti personali E poi parti Vai dalla tua famiglia Che la maggior parte Le volte abbiamo tutti Quasi abbastanza distanti Purtroppo E di base C'è poco tempo Libero a disposizione Per creare e coltivare Dei legami veri Seri E c'è un po' di diffidenza Nel mio caso Perché sono una persona Che tende a proteggersi molto Ma perché pensi Che le persone Si avvicinino a te Per interesse Tipo lei è famosa C'hai follower Andiamo Attacchiamoci a lei Lo sento subito Come ci presentiamo Se una persona Vuole questo da me No Io sono stata tradita Sono stata tradita Tanto A livello sentimentale Contemporaneamente Anche dalle mie amiche Che erano in mezzo A queste facciande sentimentali A me Cioè io ogni tanto Mi dico come cavolo faccio Dopo quello che ho vissuto A fidarmi ancora Del genere umano E mia sorella Mi dice È incredibile Perché tu Non hai mai smesso Di stupirti Di farti stupire Dalla vita Ti sei sempre lasciata Molto andare E quindi Però credo Che questa cosa qui Mi abbia un po' segnata Motivo per il quale Per quanto io cerchi Di darmi con le persone A livello proprio Di amicizia Faccio fatica E poi ti ripeto Poco tempo libero Faccio fatica Ci sono un sacco Di cose lavorative Da fare Mettici pure un po' Di invidia Un po' di competizione Queste cose che mi stai dicendo tu La percepisci Che magari uno Le percepisce E quindi si chiude Ancora di più Boh Che ne so Saranno mica rapporti veri Quelli durante la settimana Della moda Ma no Certo che non lo sono Però lo sai già Capito Stai andando a fare Una cosa di lavoro Ora la tua Cioè tu Ti stai allinando Sempre di più Da questo mondo Io Faccio il mio lavoro Se lo devo fare In contesti Ovviamente Del genere E torno a casa Dalle mie persone A farmi un aperitivo Con le mie migliori amiche Con il mio team Con il mio fidanzato Con Capito Cioè Per questo non l'ho mai sofferta A Milano io non la soffro Ci sono queste persone Perché la vivi poco Però io ricordo Di te Dagli eventi Ma certo che la vivo A livello lavorativo Quindi riesci a scindere Perfettamente Lavoro Certo Poi ovviamente Non è che lascio Il cuore nel cassettino A casa Cioè me lo porto So con chi aprire Questo cassetto Con chi metterlo in atto Con chi parlare di Di cosa Cioè qualcuno Che magari ci ha deluso No Del settore No Ma Giulie Tutti e nessuno No Nessuno Non O perlomeno sì Ci sono stato un paio di persone Che si sono comportate Molto 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 male Molto Cosa hanno combinato E loro lo sanno Ah lo sanno Voi lo sapete Voi lo sapete Però le ho perdonate Cosa ci hanno fatto? Le ho perdonate Nel senso Le incontro e le saluto Non hanno più ovviamente A che fare niente Nella Con me Nella mia vita Per me E però Insomma Le ho perdonate Non mi interessa Ma meno male che è successo Ben venga Cioè sempre per quel discorso Di attraversare le cose Hai sofferto Sì ma ho sofferto Non tanto per il problema Ma come loro si sono comportate Davanti al problema Per la delusione Sì 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 perché poi stiamo parlando di cose Che non si fanno Ad un'amica Ci sono delle regole Che le amiche hanno Ok le sappiamo tutti Le regole delle amiche Non bisogna farsi fidanzati Delle amiche Non si fanno neanche Gli ex Fidanzati delle amiche Quindi è questa Quindi è la categoria No no Queste sono una serie di regole Importante Ma comunque Credo che si sappiano Queste regole Ecco in generale Questa è venuta a sapere Che hanno infranto Io vengo sempre a sapere tutto Giulia In generale eh Così per dire Tre matte Però no 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 Scherzi a parte Non In maniera importante Seria Sono stata molto fortunata Perché Ho delle persone accanto Alcune da veramente Tanti Tanti anni Altre amiche Un po' più Diciamo Che incontri da grande Certo Straordinarie Che non mi hanno mai tradita Che non mi hanno mai delusa Con cui ci discuto Ci discuto Cioè Mi ci scambio Magari ci litigo pure Qualche vaffanculo parte Però Cioè Persone che la vita Mi ha regalato Veramente importanti Veramente straordinari Esemplari Quindi No Nessuna persona Mi ha particolarmente delusa Hanno fatto qualche Quelle che t'hanno delusa Non erano mie amiche Veramente Non l'avrebbero mai fatto Non erano mie amiche Non le sentivo comunque Che crea un'autoselezione Sì E io sono molto severa in questo Forse è per questo Che ho poche amiche Parlando di questo settore Parlando del nostro lavoro Che poi io Mi vedi come sono Saluto tutti Ci sono presa benissimo Non è che vado lì Io sono quella che ti arriva Con la puzza sotto il naso Anzi Io ricevo tantissime chiamate Da tante nostre colleghe Dove hai preso questo Come hai montato questo Dove hai fatto quest'altro Io sono una poi che si dà Sotto questo punto di vista E sono felicissima Che tutte lavorano Che tutte fanno Perché tutte dobbiamo fare E lavorare bene Quindi sono gentilissima Però prima che ti faccio entrare Nella mia vita Nella tua sfera personale Ci metto un po' Senti quindi Mi sembra un bellissimo momento Lavorativamente parlando Amicizia a posto Lavoro a posto Cuore A posto A posto Sì 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 a posto La Giulia dell'Ellis Che noi vediamo forte Eccetera Quando è che abbassa la corazza Cioè cos'è che appunto La fa commuovere I bambini e i nonni I bambini E i nonni Cioè tu mi parli di una nonna Tu mi racconti tua nonna Io me ne devo andare Mi metto a piangere Ti capisco da morire Tu mi metti un bambino davanti Per me non esiste nient'altro Io mi sbriciolo proprio come Io lo vedo con le tue nipotine Mi ricordo che una sera a cena Mi hai detto Io a questa età Mi aspettavo di essere già mamma Sì Sì perché io ho questo desiderio Ma tu pensi che è stato il tuo Tu hai sbagliato I tuoi partner O non era proprio il momento giusto No io penso che facciamo tutti Purtroppo una cosa brutta Ma inevitabile Idealizziamo la nostra vita No ok A 25 anni mi sposo 28 dopo insomma Essere diventata moglie Mi godo il mio fidanzato Poi mi godo il mio marito E poi finalmente Mi godo il padre dei miei figli Farò dei bambini Insomma io mi ero data Degli ideali ben precisi Con delle scadenze pure Temporali molto importanti E poi Uno non mette mai in preventivo Però che nel corso della vita Determinate dinamiche Si intrufolano Si insidiano E cambiano poi La realtà dei fatti Come è successo a me Io mi sono sempre immaginata In questa fase della mia vita Con un bambino Probabilmente questa era 28 sì Vado per i 29 Quindi aspettavo già il secondo Senza considerare Tutto quello che insomma Mi è poi capitato Ma che va bene così Che mi è resa quella che sono Quindi L'ho accolto in maniera serena E sana Allo stesso modo E arriverà pure Quel mio momento Quando arriverà La persona giusta Quando arriverà Quella persona lì Tanto lo senti subito Io sono di questa idea Lo capisci subito Eh sì perché Se c'è dubbio Non c'è più dubbio Se ci pensi troppo Hai speranza ancora Nel sesso maschile Con i tempi che corrono Madonna ci sono Degli uomini incredibili Nel mondo Veramente Certo Sarà che io ho chi Solo per Pierre Eh certo Come è giusto che sia Però io che in questo momento Insomma Sono un po' così Mi rendo conto Li stai scoprendo Ci sono persone incredibili Sì sì Chissà se sarà un bel momento La primavera Che sbocia un nuovo amore Eh sì poi Io sono un po' Una rondinella Sì 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 Potrebbe Io in primavera Una rondinella Funziono bene Davini bene il fatto Che vai per i 29 O ti sono volati Questi 9 anni No io la vivo bene A parte che sì Mi sono volati Sono volati La vivo bene Ma mi fa paura il 30 Cioè io L'idea che Eh vero? È per quello che ti ho detto Che sono in tilt Ci vediamo tra un anno Oddio Tesorino Sì Un po' il mental Quello lì brutto Sì un po' ti parte Il mental breakdown Eh vero? Sì Non tanto perché Non li dimostriamo Non ce li sentiamo Ma no sti capoli A livello certo Con tutte le creme così Siamo qua Sì ma voglia Perché però Botox Creme Diciamo proprio È vero Senti concludo Questa puntata per me Bellissima Con una citazione Ah oddio pensavo una lettera No non è una lettera Perché mi piace fare l'intellettuale Ti piacciono le citazioni Oddio Oddio è vero? Sì Madre Teresa di Calcutta Diceva Ieri non c'è più Domani non c'è ancora Non ci resta che oggi Ecco tu sei una persona Che guarda indietro Si gode il presente O vive orientata al futuro Vuoi una bruttissima notizia Vai Che è la cosa per cui sembra una pazza Vai Io penso a tutte e tre Contemporaneamente Costantemente Giulia Ti capisco Mamma mia È una tragedia qua Io ti capisco È per quello che sono in tilt Io vorrei prendere Se ci fosse un interruttore Staccare la spina Però scusami Tu preferiresti essere un po' più stupida Perché dicono che quegli stupiti Si fanno meno domande E vivono meglio Preferiresti Dai su Quindi va bene Allora va bene È bello È bello Fida di che è bello Grazie mille Giulia È stata veramente Una chiacchierata È stata bellissima C'è qualcosa che volevi dire Che non abbiamo detto No Abbiamo detto tutto Abbiamo detto tutto Sì Poi insomma diciamo Che io non è che abbia Chissà quali segreti Quindi no È stata una bellissima chiacchierata Però Grazie mille Grazie a te Ciccia Grazie Grazie a voi Grazie a tutti